avevate iniziato una storia oppure stavate iniziando, insomma non è questa la cosa, lui vi cercava molto spesso, vi invitava ad uscire, si faceva sentire, vi messaggiava molto spesso e poi ad un certo punto ha ridotto il suo interesse nei vostri confronti, vi cerca di meno, anzi spesso non vi cerca per lunghi periodi, vi messaggia molto di meno e dice delle scuse, il lavoro, piuttosto che altre situazioni che possono avere in qualche modo compromesso la sua disponibilità. Ora questo evidentemente non è vero, perché sono solo scuse, l'unico dato di fatto di cui dovete tenere conto è che prima erano coinvolti in un certo modo, ora lo è di meno, perché quando noi siamo coinvolti in qualche modo cerchiamo di metterci complementare le esigenze dell'altra persona, rinunciando anche eventualmente alla partita di calcio la domenica per accompagnarla a visitare la vecchia zia malata e quindi dobbiamo tenere presente che, cioè devi tenere presente che c'è stato un decoinvolgimento, ma la ragione del decoinvolgimento è anche abbastanza evidente se non ci sono stati fatti particolari e che è una persona che si coinvolge più sul desiderio che sul possesso, cioè che non si innamora facendo l'amore, ma si innamora desiderando ad esempio di fare l'amore e si innamora quando è lui che deve inseguire, quando trova la strada insalita. Ora, te ne sei accorto un po' troppo tardi, perché se te ne fosse accorta prima, ai primi segnali, diciamo, di una diminuzione di richieste di uscire ad esempio, la prima volta che ti chiedevo di uscire tu non eri disponibile, la seconda neanche, in modo tale che invertivi subito la rotta. Ora, questa rotta va invertita e l'inerzia è un po' maggiore, per cui il modo migliore è quello di diventare indisponibile nei suoi confronti causa un antagonista e quindi devi fare lo sforzo di uscire anche con uno che non ti piace, per dire che non ti piace tanto, ma l'importante è che lui abbia la percezione che tu stai uscendo con un altro, stai andando con un'altra persona, questo deve essermi sicuro, senza che tu glielo dici, e nel momento in cui lui ti chiederà qualcosa, tu ci schierai, diciamo, oh vabbè è un amico, sì, ci vediamo ogni tanto, però ti negherai quando lui ti inviterà. Ecco che lì si innesca un meccanismo tale per cui piano piano ricomincerà ad inseguirti. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao.